Buongiorno, siamo a Casa Massima, io sono Alessio Martinelli, consulente immobiliare Remax della Polare, qui la mia collega Annalita Morelli. Oggi vi presenteremo un appartamento di tre vani completamente ristrutturato, completo di posto auto e cantina. Andiamo! Benvenuti, eccoci all'interno di questo meraviglioso tre vani. Gli spazi di certo non mancano, stiamo parlando di almeno 100 metri quadri. Vi piace la cucina? Bella, vero? Avete bisogno di più spazio? Nessun problema, venite con me. Che spazio è meraviglioso, non lo vedete anche voi, un bello open space? Ma accomodiamoci nella zona notte. E che bella camera da letto! L'appartamento è stato completamente ristrutturato qualche anno fa, impianto elettrico, idrico, come avete visto il bagno è completamente nuovo, climatizzatori per tutta la casa e questo bellissimo grespo celanato. E c'è ancora una sorpresa per voi! Avete visto che spazio e quanta pace? Qui potrete concedervi tante serate in pieno relax. Che aspettate? Chiamateci!